Blue skies smiling at me Nothing but blue skies Violet, Klaus e Sunny erano bambini intelligenti. Quasi tutto quello che accadde loro fu carico di sventura, infelicità e disperazione. I vostri genitori sono periti in un terribile incendio. Periti vuol dire morti. Sappiamo che cosa vuol dire. Salve, 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 bambini. Sono il conte Olaf, vostro nuovo tutorial. Sapete cos'è questa? Direi che è una lista. Sbagliato, è una lista di lavori domestici. Sappiamo che vuole rubare il nostro patrimonio. Scappiamo da questo posto maledetto. Tornate in casa. E' più sicuro. E gli estranei non vi prendono. Estranei? Dove? I bambini Baudelaire saranno distrutti. Eh? Quando questa sabbia finirà, quell'enorme fortuna sarà mia. Non mi ero reso conto che la sabbia scorresse così in fretta. L'ho comprata online. Dovrete girarla un paio di volte. Io e i vostri genitori ci radunavamo per sviluppare i codici segreti. O i nostri genitori sviluppavate codici segreti? Nella mia libreria troverete tutte le risposte che cercate. Dai, al lavoro. Sta succedendo qualcosa di strano. Che cos'è? Era dei miei genitori. Sembra il tatuaggio che ha il conte Olaf sulla caviglia. Davvero? Mi chiamo Capitan Shem. Quell'uomo è il conte Olaf travestito. Come sei acuto. Ovunque andrete, io riuscirò a trovarvi. Perché ci odia così tanto? Perché è divertente. Stiamo preparando una missione davvero top secret. Che ne dite, Baudelaire? Ci state. Ti sto portando in prigione. Beh, buona fortuna. Sono armato. Anch'io. Roba da bambini. Carino. Un fucile da pesca?